Grazie a tutti. Eccoci qua, veramente grande risultato per Jeffrey e soprattutto grande risultato per queste World Series che hanno premiato due grandi giocatori finora, Phil Luck al primo evento pod, non limit, hold them, Jeffrey Lisandro in questo evento pod, limit, Omar. Noi lo spegniamo perché non vorremmo intralciare il lavoro di chi detiene l'esclusiva come sapete, rimanete con noi nei prossimi giorni perché comunque le World Series Europe sono ancora molto molto interessanti e calde. Ciao a tutti ragazzi.